Poi tirare la patata crusa e la tirare, secondo qualsiasi c'è, ti metti in oeuf della farina per fare la pasta. Te la fai fofina, manca il boll'acqua, un pizzo salato, ti metti in oeuf. Ma fai il chamas come in dialetto? No, le patate crue. No, le patate crue. Perché adesso ci chiamo a piede. Piede, e dopo mette giù, mette giù una patata. Ma qualsiasi c'è piccina, fai il chamas già piede? No. Piede. Fai il chamas anche qualsiasi c'è giù o hai il chamas dopo piede? E di sera, anche mamma non c'è piede. Perché magari i dischi l'ha inventato più tardi e non piede. La mia mamma la fa girare, prima della cantina girare come una stanzina. Si. Girare il fuoco e la fa il pa. Ah. Pas di segel. Eh, pas di segel. Anche di motte. Ah, ma gli era pure. Scucciate. Eh. Dopo gli fai fare le fordine e mette sull'acqua salata. con qualche buia d'acqua. Ti mette le zonze a mano. Dopo ti mette la scipera. Ti mette un piano di gnocchi, un piano di formali. che era biondo, che era giallino, che era giallino. Ti mette la calabria usata. Dopo ti mette un piano di portati. e mi pide quella roba lì. E insieme ti mette il buio con la salvia a coppia. La mia mamma. La mia mamma la fa sul pere. La dicea che quando ero a la botiga gli veniva tutto il pa di segel da mangiare insieme il gnocchi. Eh, sì. Davvero? Sì, sì. Ah, se il mangiare col pa di segel. Sì, sì. Che vorrei mangiare.